Ristrutturazione del Mazzini o nuovo ospedale? Questo è il dilemma di cui tanto si parla in queste ore. Qual è la posizione ufficiale della Regione e dell'assessore regionale della sanità? Intanto la Regione ha fatto molto perché ha individuato le risorse che corrono su due binari finanziari, l'articolo 20 e le risorse del Sisma, a disposizione dell'intera provincia di Teramo circa gli investimenti su dell'indirizia sanitaria pubblica. Chiediamo per non imporre sempre dall'alto una scelta che il territorio, anche laddove noi ci misureremo con loro, ci confronteremo con loro, ma che il territorio dia un orientamento di massima. Credo che sia un passaggio molto importante anche per non cadere nell'appunto che poi a volte si fa, cioè una scelta che viene dall'alto, che non viene confrontata, che non viene concertata. Qui applichiamo il metodo opposto, decidesse il territorio con un orientamento di massima, la Regione mette le risorse a disposizione. Nel territorio ci sono però posizioni contrastanti? Non c'è mai l'unanimità attorno alle scelte della sanità. Io quello che chiedo infatti è un orientamento di massima e do la piena disponibilità di essere con loro a confrontarmi e assumere insieme questo orientamento.